Italia 1 Che cosa ha fatto mia moglie per meridio di morire in quel modo? Sabino non è tornato a casa stanotte E io ho tua figlia e se chiami la polizia la faccio Ogni giorno la loro vita Intendo affidare il casomonte a un altro distretto Per la vita degli altri Uno di noi entra nella villa fingendo di essere il padrone di casa Ma è vero che la sorella della corse è sparita? Io ho piena fiducia nel commissario e nei suoi uomini Quando escono dal portone i nostri sono lì ad aspettarli Io sarò il primo a garantire per loro Distretto di polizia 3 Quella donna è troppo legata al frasi Cercherà di riprendersi Venerdì alle 21 Italia 1